Benvenuti! Nel video di oggi parleremo di uno scoop riguardante Manu e Isabella, concorrenti di Temptation Island. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Un'ombra inquietante si è abbattuta sulla coppia di Manu e Isabella, protagonisti della nuova edizione del famoso reality show condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island. La storia di Manu e Isabella ha subito catturato l'interesse del pubblico, principalmente a causa delle loro notevoli differenze sociali e dei problemi che esse sembrano generare. Il ragazzo ha svelato un particolare sconcertante davanti alle telecamere. Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per cinque o sei giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei. E ancora oggi è così. Questa confessione ha sollevato interrogativi sulla dinamica della loro relazione. Manu, di 27 anni, lavora come tramviere, mentre Isabella, di 26 anni, è impiegata in un'agenzia di eventi. Entrambi provengono da Milano, ma dalle opposte sfere della città, Isabella dal cuore pulsante del centro, mentre Manu dalla periferia. La divergenza tra le loro prospettive sembra ostacolare il loro cammino comune. Non troviamo un punto di incontro sulla direzione da prendere, hanno dichiarato al team di Temptation Island 2023. Tuttavia, l'atmosfera già carica di tensione si è ulteriormente surriscaldata quando una pericolosa segnalazione è apparsa sotto il video di presentazione di Manu e Isabella sui social media del programma. È tutto falso. Lui è stato costretto da lei. Abbiamo fatto i casting lo stesso giorno. Lui guida i tram o la metro. Non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in tv. Togliete le maschere. Ha scritto un utente anonimo, gettando un'ombra di dubbio sulla veridicità della loro partecipazione al reality. Ora sorge la domanda, sarà vero quanto affermato da questo utente? Si tratta di un'accusa infondata o c'è un fondo di verità dietro le parole scritte? L'incertezza e il mistero si diffondono nell'aria, alimentando l'attesa per gli sviluppi futuri di questa travagliata relazione sullo schermo. Solo il tempo e il proseguimento del reality potranno svelare se c'è un segreto nascosto dietro le apparenze. A presto!